Ben ritrovati amici stellari. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Un buon fiuto per gli affari vi rimetterà in sesto l'economia, periodo florido per le dè che non rimarranno tali. Vi industrierete subito e i vostri obiettivi saranno innovativi. Favorite le libere attività e non mancheranno gratifiche per chi sarà alle dipendenze. A fine serata piacevoli gli incontri con persone provenienti da luoghi lontani. Toro, non cercate giustificazioni, oggi ci sarà da risolvere una faccenda personale. Sappiatevi organizzare, evitate di improvvisare una scusa per l'ufficio. Da qualche tempo un superiore vi tiene così sotto occhio. Piuttosto spiegate la vostra necessità, adesso diventata urgenza. Gemelli, per le giovani gemelli ci sarà un ritorno. Per le signore del segno ci sarà un ritorno. Un vecchio amore tornerà più baldanzoso che mai. Ma attente, con questa bella venere nel passionale fuoco dell'ariete, non so fino a che punto vi converrà farci un pensierino sopra o piuttosto guardare avanti. Cancro, è arrivato il momento di riprendersi quello che vi spetta. Sarà in famiglia che bisognerà chiarire un certo argomento e prendere inevitabili rimedi. E se sarà il caso, con una certa autorità. Leone, venere e urano non faranno mancare quei piaceri ai quali spesso difficilmente sapete rinunciare. Per esempio la bramosia di essere sempre i primi. Non siete mai contenti, visto che tenderete a spingervi oltre. Non esagerate, sarà un capriccio che col tempo non potrete più tenere a bada e vi complicherà la vita. Vergine, favorito il settore degli studi. I giovani del segno ne dovranno approfittare. In questo periodo agli sgoccioli dell'anno scolastico ci sarà chi dovrà impegnarsi. Per recuperare oggi ed è il giorno ideale. Anche per le specializzazioni e i master. Il periodo è ottimo per raggiungere gli ottimi risultati. Bilancia. Il vostro fare energico e prorompente comincerà a dare i primi frutti. Un rapporto professionale importante si concretizza. Più stabilità per i giovani del segno. Il futuro si prospetta positivo. In amore piccole discussioni tra coniugi. Non ingigantite un problema perché dipenderà da voi mantenere un buon equilibrio nella coppia. Per i single state vivendo un momento insolito. Le relazioni saranno traballanti. I giovani del segno dovranno essere più selettivi per evitare delusioni ed amarezze. Scorpione. Le giovani coppie saranno soggette a verifica. Una maggiore maturità nella coppia sarà indispensabile per non andare incontro a fisiologiche rotture. Nella professione evitate in questo periodo di stringere nuove collaborazioni. E controllate più da vicino il comportamento di un socio poco fidato. Sagittario. Un viaggio di piacere da rinviare. Un impegno professionale vincolerà chi è in procinto di chiudere un buon risultato. E non potrà permettersi distrazioni. Anche se saranno invitanti. Il lavoro vi vuole presenti. E' arrivato il momento di pensare a stringere un eventuale risultato che tarda ad arrivare. Siete in procinto di un budget di verifica e sarà il caso di accontentarsi. Fra qualche settimana tutto sarà più difficile. Anzi, impossibile sperare di meglio. Capricorno. Un trigono di Giove. Cioè dire un bell'aspetto di Giove. Un pianeta favorevole. Il pianeta delle grandi fortune. Sembra annunciare una nuova fantastica realtà per l'immagine. E non solo. Buone situazioni a livello economico. Nuovi ambienti sociali vi aspettano. Conoscenze piuttosto insolite. Originali. Andranno però così ad arricchire una cerca di gente che vi ritroverete a breve. Acquario. Marte in Sagittario. Dovrebbe essere il vostro stimolo primario. Ma state prendendo alla leggera anche questo. Siete un po' meno agguerriti della settimana scorsa. In più adesso le faccende da sbrigare, quelle personali e professionali, si accavalleranno sempre di più. Non potete in questo momento rallentare. Proprio adesso no. Rimettetevi in careggiata sin da subito. Pesci. Troppo esuberanti per l'occasione. Mantenetevi nel vostro. Non enargite consigli ed esperienze gratuite. Qualcuno potrebbe travisare questa vostra generosità. Non siete nell'ambiente giusto per le dimostrazioni di preminenza. Non sarete capiti e verrete anche criticati. State in campana sarà molto più vantaggioso che esporsi. Il segno favorito del giorno è il Capricorno. Un abbraccio stellare da Lucia Arena. Un abbraccio. 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 Grazie.